Signori bentornati su Rainbow Raga come state? Come va? Questa mappa mi perseguita signori Mi perseguita cazzo Vabbè, andremo comunque a fare no? Importante Ok, allora il drone, eccolo qua Gli ho appena scritto Gli ho appena scritto che c'è caveira ragazzi E infatti mi sa che ha appena rotto la finestra dall'altra parte Ah, voglio fare la tecnica del GigaPlant ragazzi Sto arrivando Vai Bravi Tengo Ok, ok Vai, 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 vai Ok Ok No Dai, ok Ragazzi Ma cos'è successo in sto round? Ma mi spiegate? Minchia raga Era ecco quello di prima? Se non facevo fuori ecco mancava poco Non riuscivo a prendergli la testa Perché c'era la zama incastrato con la finestra Non capivo più niente ragazzi Ok ragazzi Mi sa che vogliono fare la stessa cosa Perché Però io devo muovermi Perché se fanno la stessa cosa Se fanno la stessa cosa ragazzi Io devo muovermi E vorrei passare dalla parte dove non sono riuscito a passare prima Diciamo Quindi da qua Però devo aspettare Vai Tengo 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 Mamma mia Che bel round Era lo sapevo che dovevo entrare da lì ragazzi Così li distraevo Bella La mira c'è anche Ma che cazzo vedevo di ragazzi Vabbè Questi palese che erano qua Quindi ragazzi Mi prendo Termite Bravissimi Dai Ace Prova prima tu Prova a prendervi qualche Granata in volo C4 C4 Sfrecato Vai 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 Vieni Vieni qua Vieni qua Ok Cazzo ragazzi Vieni qua C4 Va No no Porca troia Eh ragazzi In un panino Ero Dio santo Porca puttana Oh vaffanculo Va Vaffanculo Silenzio Lo sapevo Che ti riuscivo Non ho preso il drone Ma ho preso l'alleato Ragazzi Questo è quello che conta No Ok Cosa 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 Ma tu stai scherzando Ma tu stai scherzando Fra te Non era mica testa Quella Non era mica testa Safe Ragazzi Dai che poi ci portiamo a casa Sto round I assist Ok Perché non mi scrive Ok Safe Safe Dove Bravi Ragazzi Ragazzi Che bella partita Che bella partita Molto veloce Perché sono 13 minuti di partita 13 minuti di registrazione Saltando la fase ban Quindi è ancora meno È ancora meno il tempo Ovviamente Ah ma cazzo Abbiamo un altro round Che rincoglionito Che sono ragazzi No Cosa Frate riesci Ah ragazzi Non so cosa sia successo Non ho capito Chi mi ha ucciso Da dove mi hanno ucciso Cioè vi giuro Non ho capito un cazzo Questi ci hanno veramente Fottuto alla grande Stavolta Ma come è possibile Ma veramente Dai Ma com'è possibile Porca troia Ma Ma Bella però Quella tecnica Di fuse lì Granata E fuse E fuseata Bella tecnica Ragazzi Silenzio Ok Bravi 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 Non ho capito Quei fuse lì Per Cioè perché mi hai Fiuzzato lì Frate Che senso Cosa ha servito Frate Fammi capire Che cazzo ha servito Vabbè Ok ragazzi Seconda partita Su Mappa Canal E Dai Abbiamo operatori Abbastanza Cancri Riusciamo a fare una Rotation qua Ragazzi Azami Riusci a faremi una Rotation Porca Troia Eh ragazzi Mi sono Mi sono fatto prendere Dalle euforie Pensavo di fargli il giro Ma invece è arrivato anche Bacche perché lì sopra Nelle scale c'era Nomada Ma dopo c'è È arrivato Bacche Potevo prenderlo Un botto Però ovviamente L'ho smirato 2v4 Porca troia Non ci credo Eh ragazzi Sì dai C'è questo che si chiama Scopus Ma veramente Ti chiami così Frate Tengo 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 Ok Porca troia Mi è uscito L'ho scoperto Ok 1v1 Safe Non morirce Non morirci Porca troia Sempre scopus Ragazzi Sempre lui Eh ragazzi È andata così Eh mi sa che non Ok Ok Oh cazzo Ok Ok Mamma mia Ma ho fatto full team No Non ho fatto full team Che bella partita Wow Stunnato Ma non stunnato mentalmente Coglioncelli Ok ragazzi Siamo pronti C'è qualche spunk Fatemi un po' Vedere No Ok Allora Purtroppo Non abbiamo preso Nessun breacher Questa può essere Una cosa negativa Come anche una cosa positiva Dipende Dai punti di vista Ok Io ho preso nomada Perché vorrei entrare Dalla mia solita Porticella magica E Vediamo Visto Porca troia Che smirata Pioi Porca troia Che smirata Ok buono ma il def fuori come faccio come faccio fiore il def fuori no cazzo sì ma sto giocando da solo fiore c'è porca cioè voglio dire il secondo a zero chi come cazzo è possibile dai dai ragazzi che sto giocando da solo cristo il signore ragazzi potevo muovermi prima prendere il def potevo fare mille cose però quella smirata lì di liceo ragazzi perché se io prendevo liceo prima eravamo 1v1 dopo a parte che l'avevo ucciso quindi era fatta diciamo porca troia ragazzi fanno sponchi ragazzi attenzione dai non si affaccia più giustamente parca troia ok no porca broia ragazzi 8 chi comunque cioè voglio dire non è che non abbia fatto un cazzo per carità è stata una partita un po così l'abbiamo persa però è stata una bella partita purtroppo ragazzi è andata così eh vabbè dai eh vabbè vinco faccio 3 kill perdo ne faccio 25 cioè ogni volta ragazzi non capisco vabbè ragazzi io spero che questi che queste due partite vi siano piaciute e bella per noi ragazzi che vi devo dire un like un commento e al prossimo video di rainbow grazie a tutti grazie a tutti